Ed eccoci anche con Francesco Gaffuri, 5 reti nella bella contro il Palermo, decisivo sicuramente, come è stato decisivo durante tutta la stagione, forse una partita un po' più difficile invece all'andata contro il Palermo. Però il bomber è tornato e adesso i comaschi, i tifosi della Comunoto, sperano possa fare altrettanto nella finale. Sei pronto Francesco? Sì, sono pronto, è giusto quello che hai detto, nel senso che con Palermo le prime due partite non abbiamo giocato bene, sicuramente non ci siamo espressi sui nostri livelli, direi molto molto meglio in gara 3, tutti abbiamo giocato molto meglio sia da un punto di vista singolo che come squadra. È stata dura col Palermo e credo sarà durissima contro il Catania, tu che a Versailles ti aspetti? Durissima col Catania sicuramente, prima di tutto perché è una finale, ci sarà tanta tensione, loro sicuramente sono un'ottima formazione, con tanti giocatori che hanno già avuto tante esperienze in A1, vediamo, noi abbiamo dalla nostra il fattore campo, speriamo. E avete anche una gran voglia di ritornare in Serie A, perché qua siamo alla sede della Comunoto, poi chiaramente potrebbe esserci davvero una grande festa, una volta che riuscirete a coronare questo sogno Francesco. No, noi siamo pronti, determinati, ci crediamo, abbiamo la testa già lì e sicuramente arriveremo carichi e preparati alla partita. Ultima cosa che ti chiedo, allora un invito, non ce ne credo sarà bisogno, ma per il pubblico di Como a essere presente sabato pomeriggio, a sostenervi? Ma sicuramente penso che sarà un bello spettacolo, una bellissima partita, poi è una finale quindi sarà sicuramente emozionante, gol a gol, vi aspetto. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie, grazie.